L'oggetto di questa mozione è lo sfruttamento idroelettrico dei nostri corsi d'acqua. Punto fondamentale della politica di Regione Lombardia deve essere proprio quello della tutela del patrimonio idrico, del nostro patrimonio idrico superficiale, quindi quello dei nostri corsi d'acqua, soprattutto in un periodo di cambiamento climatico. Regione Lombardia in diversi documenti, tra cui ad esempio il PSR, il programma di sviluppo rurale, è ben conscia e consapevole dei cambiamenti climatici e della futura disponibilità di acqua che avremo qua in Regione Lombardia. Disponibilità futura che è in continua diminuzione, questo Regione Lombardia lo sa, lo leggiamo ad esempio nel PSR in cui Regione Lombardia scrive che ci saranno sempre maggiori eventi siccitosi nella nostra regione nei prossimi anni, con minori giorni di pioggia in cui le precipitazioni saranno più forti, ma comunque all'interno, nel contesto annuale, ci sarà una diminuzione progressiva della quantità di acqua, quindi una diminuzione del patrimonio idrico e della quantità disponibile nei nostri torrenti e nei nostri fiumi. Acqua, che sappiamo benissimo, è usata per due scopi principali, per le derivazioni idroelettriche e per l'uso in riguolo della nostra agricoltura nella nostra pianura. Quindi il punto fondamentale, la politica fondamentale secondo noi di Regione Lombardia deve essere una e una sola, il risparmio idrico, risparmio che è impossibile da coesistere con lo sfruttamento idroelettrico, o meglio, quello sfruttamento idroelettrico che c'è stato in Regione Lombardia in questi ultimi anni e in particolare per la continua proliferazione di impianti di derivazione, soprattutto piccoli e medi impianti di derivazione, che in numerose zone della Regione hanno creato tantissimi problemi e hanno creato veri disastri ambientali. Cito ad esempio Sondrio nella Valtellina, ci sono numerosi comitati locali che si battono per la tutela dei torrenti che per la maggior parte dell'anno ormai sono prosciugati, appunto perché sono state date troppe concessioni e sono troppi impianti di derivazione. Parliamo della provincia di Brescia, la Val Camonica, noi più volte nel corso di questa legislatura abbiamo chiesto ad esempio che venisse fatto il bilancio idrico dell'olio prelacuale, perché in quella zona lì sono numerosi torrenti che ormai hanno l'assenza idrica per la maggior parte dell'anno e quindi con gravissime ripercussioni sull'ambiente e anche sull'inquinamento, anche sulla qualità delle acque. Provincia di Brescia, provincia di Sondo, provincia di Bergamo, con il torrente Sere, abbiamo visto poco tempo fa, proprio qui in Regione Lombardia, ha approvato questo consiglio una mozione che appunto chiedeva di valutare la moratoria per due impianti di derivazione proprio sul torrente serio che rischiano di provocare gravi problemi appunto su questo torrente. Abbiamo letto la lettera dell'assessore Terzi che l'assessore ha inviato al presidente della provincia di Bergamo, Matteo Rossi, appunto a seguito dell'approvazione di questa nostra mozione in consiglio regionale. Citiamo anche la provincia di Pavia in cui gravi problemi è stata una centrale idroelettrica sul torrente Avagnone, un progetto che interferisce con la rete ecologica regionale e con una zona di ripopolamento e di cattura. Per cui vediamo come nella nostra regione sono numerose le zone che appunto risentono di questo problema. Dicevo prima, la Regione Lombardia sa qual è il problema e infatti leggiamo anche nel programma energetico ambientale regionale, altro documento di questa legislatura, quindi di questa giunta una minaccia significativa è tuttavia costituita dal continuo aumento del numero degli impianti di derivazione per la produzione di energia elettrica che comportano impatti sull'ambiente riconducibili non solo alla modificazione del regime idrologico ma anche alla rottura dell'equilibrio della naturalità del sistema. Questo è quello che scrive Regione a questa giunta in Regione Lombardia. Abbiamo il caso EUPILOT 61 che ha messo sotto la lente di ingradimento il nostro Stato per la direttiva Acque in cui viene richiesto all'Italia che venga tenuto contro il bilancio idrico a livello di bacino e sottobacino. Proprio per quanto riguarda il bilancio idrico, recentemente la giunta regionale ha approvato la DGR 5300 nel quale viene approvato un progetto per la stima del bilancio idrico regionale e ne affida per 18 mesi attività ad ARPA Lombardia. Il bilancio idrico è fondamentale perché è l'unico strumento che permette di capire quali sono effettivamente le zone della nostra regione in cui c'è carenza di acqua, in cui è possibile eventualmente anche concedere, procedere con ulteriori derivazioni e le zone invece in cui assolutamente non deve essere fatta perché queste recano danno all'ambiente. Quindi quello che chiediamo è questo, in relazione anche all'approvazione della mozione relativa al torrente serio approvata poco tempo fa qua in Regione Lombardia. Per cui, considerato lo stato attuale dei torrenti e dei nostri corsi d'acqua, noi con questa mozione chiediamo che la giunta regionale si impegni a valutare una moratoria di tutte le concessioni di derivazione idrica su tutto il territorio lombardo, almeno fino a quando non saranno elaborati il bilancio idrico regionale e il programma di tutela e uso delle acque. Questo perché, che ribadiamo ancora il concetto, prima dobbiamo capire realmente qual è la situazione idrica della nostra regione Lombardia e questo lo possiamo sapere solo con il bilancio idrico regionale. Fino a quel momento deve essere sospeso tutto, dobbiamo attivarci perché non venga più concessa alcuna derivazione idroletrica, perché sappiamo benissimo quali possono essere i problemi. Poi successivamente si potrà fare, però fino a quel punto noi chiediamo che la giunta si impegni a valutare una moratoria su tutte le concessioni. Grazie.